Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Fresh Shining e oggi vi dimostrerò come aumentare la massa muscolare nel calisthenics. Vi avviso già che gli esercizi saranno molto tosti sia a livello muscolare che a livello articolare, vi dico tutti gli esercizi. Abbiamo 5x6 Australian Pull Up, salita 3 secondi, fermo 3 secondi, rest 1 minuto e mezzo barra 2 minuti. 4x10 deep, discesa lenta 3 secondi, fermo 3 secondi, salita lenta 3 secondi, riposo 2 minuti tra le serie. 4x15 pull up più 30 push up, rest 1 minuto tra le serie. E ovviamente non bisogna neanche saltare le gambe. 4 serie per 20 squat più 20 squat jump di fila, riposo 1 minuto tra le serie. E infine 100 diamond push up, nella quale avrete pure la possibilità di cronometrarvi, così che capite il vostro record e vi impostate bene il vostro allenamento per migliorare sempre di più. Perfetto ragazzi, direi che ho parlato abbastanza, è arrivata l'ora di iniziare l'allenamento. Iniziamo con i 6 Australian Pull Up, 3 secondi di salita e 3 secondi da fermo. Perfetto, adesso che il pump si sta facendo pian piano sentire, direi che sia arrivato il momento di toglierci la maglietta e mostrare cosa siamo capaci di fare. E direi che intercipiti stanno già esplodendo. All'inizio lo troverete molto massacrante, ma vi dirò già che più avanti non ci abituarete. E questo esercizio è anche molto utile per imparare a fare le tappole. Here come the sirens, but I'm not alarmed, heavily armed, with devastating bombs. Live from the motherfucking freak show. Ragazzi, questo esercizio, oltre ad aumentarvi la massa muscolare, vi aumenta di brutto il fiato. Infatti sentite, io ho il fiatone, le sto crepando, questo circuito sta facendo effetto. Ed è arrivata adesso l'ora di allenare pure le gambe. Mi raccomando, mai escluderle. Perché se volete fare bella figura in spiaggia vi consiglio di allenarle. Iniziamo. Adesso si sente di brutto bruciare quattro i quadricipiti. Già nella prima serie è veramente tosto. Poi vedrete nell'ultima. È talmente massacrante che non camminerete più. Ragazzi, come promesso, guardate il mio sudore. Questa è la prova schiacciante di cui le gambe proprio si sono massacrate. Guardate il pump. Fanno malissimo. Però è molto divertente, dai. Finalmente è arrivata la resa dei conti, ragazzi. È ora di fare i 100 diamond. 3, 2, 1, via! Siamo arrivati a 20. che mancano ancora 80. Volevo fare un'altra serie da 20. ma purtroppo sono più che morto. Ancora 60. Riposo un po' di più per recuperare il più possibile l'energia. Riposo un po' di più per recuperare il più possibile l'energia. A metà strada siamo arrivati. Riposo un po' di più per recuperare il più possibile l'energia. Sessamos. Ancora 30. 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 Ancora 30.